Benvenuti a questo appuntamento, il primo dei webinar organizzati per raccontarvi quelle che sono le attività collegate al contest che è legato all'iniziativa il censimento permanente sui banchi di scuola. Questo primo webinar si svolge oggi, è il titolo le censicare come preparare gli alunni alla competizione statistica nazionale. Il secondo webinar si svolgerà il 2 marzo con l'obiettivo invece di raccontarvi quelle che possono essere le attività legate alla seconda fase del contest, ovvero la realizzazione del progetto creativo. Benvenuti a tutti i docenti che sono qui presenti in questo momento e anche a tutti coloro che ci ascolteranno in differita successivamente una volta che avremo rilasciato la registrazione di questo appuntamento. Questo appuntamento ha l'obiettivo di poter chiarire quelle che possono essere i dubbi legati alle attività che il censimento permanente sui banchi di scuola richiede e quindi diciamo un appuntamento di servizio proprio che ha questo scopo di ascoltare le riflessioni anche di voi docenti e che potrete anche mandarci via mail successivamente allo svolgimento di questo webinar. Prima di iniziare e di centrare l'attenzione in maniera più specifica sul contest una piccola nota introduttiva di che cosa stiamo parlando. Siete tutti docenti che avete scritto le vostre classi quindi conoscete benissimo il censimento permanente sui banchi di scuola e vi ringraziamo di questo interesse che riscontriamo da diversi anni. Quella in corso è la quarta edizione, questa attività è stata avviata a ottobre del 2019 grazie all'appoggio del Ministero dell'Istruzione che ci consente di arrivare da voi in classe e soprattutto grazie a tutti voi docenti che come ho sempre detto in tutti gli appuntamenti in cui ho parlato del censimento permanente sui banchi di scuola ed è la realtà, siete i nostri più importanti alleati. Ecco senza di voi questa iniziativa non si potrebbe assolutamente svolgere ed è un'iniziativa di comunicazione dei censimenti di promozione della cultura statistica e nasce quando? Nasce nel 2019 a supporto della campagna di comunicazione dei censimenti permanenti. I censimenti cambiano da censimenti che si svolgono con una cadenza decennale diventano annuali. In particolare è un'attività che riguarda il censimento permanente della popolazione che appunto si è svolto a cadenza decennale fino al 2011 e a partire dal 2018 è diventato annuale e questa iniziativa è stata avviata l'anno successivo di questa nuova fase dei censimenti proprio a supporto della seconda tornata del censimento permanente della popolazione e dalla terza edizione in poi è divenuta una delle attività proprio standard dell'istituto quindi si è compresa la bontà di questa attività svolta in classe con gli alunni e grazie al supporto degli insegnanti per cui l'istat ha ritenuto importante farla diventare un'attività corrente. Quali sono gli obiettivi? Allora innanzitutto è quello di comunicare ai giovani le novità dei censimenti e come vi dicevo in particolare del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e poi di far comprendere anche l'importanza della statistica per conoscere, leggere e comprendere la realtà in maniera più consapevole. Il target è preciso, l'idea è stata quella proprio di rivolgersi ai giovanissimi quindi il nostro target sono le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. Come si costruisce? È un'attività che è suddivisa in due parti, un percorso formativo che è differenziato per ordine scolastico perché noi ci rendiamo conto che ci rivolgiamo a scuole e classi molto differenti tra di loro, quindi le stesse scuole primarie sono fortemente caratterizzate tra una classe e l'altra, quindi parlare con bambini di otto anni non è la stessa cosa che parlare con bambini di dieci anni, quindi il materiale formativo messo a disposizione è differenziato per ordine scolastico. Miracoli non ne posso fare. Vi chiedo scusa se è possibile scollegare i microfoni, grazie. Quindi come è costruito dicevamo si articola in un percorso formativo al quale è collegato un contest che è suddiviso a sua volta in due parti, la competizione statistica di cui parleremo oggi, le scienzi care e il concorso di idee sul tema scienziamento e territorio che sarà oggetto di riflessione e confronto del prossimo webinar. L'iniziativa ha una cadenza annuale e si svolge lungo l'arco scolastico, lungo l'anno scolastico, proprio per evitare di affogarvi. Noi partiamo a ottobre e diamo il tempo tutti i mesi dell'anno scolastico di organizzare l'attività in modo da poter pianificare il lavoro senza eccessivi pesi perché ci rendiamo conto che il programma scolastico ha le sue caratteristiche, le sue necessità per cui cadenziamo molto bene l'attività, quindi c'è una prima parte formativa, c'è una seconda parte dedicata del contest, ma poi lasciamo a voi il tempo e la modalità di organizzare il lavoro con le vostre classi. Brevemente, perché censimenti? Perché organizzare un'iniziativa su questo contenuto preciso? Perché noi riteniamo come Istituto Nazionale Statistica che sia un argomento fondamentale perché i censimenti stessi sono uno strumento importante, una fonte di dati preziosi che permette di avere a disposizione un patrimonio informativo ricco e di grande utilità. Il primo censimento dell'Italia Unita si svolge nel 1861, dal 1926 è l'Istituto Nazionale di Statistica, all'epoca si chiamava Istituto Centrale Statistica, a avere il compito di svolgere questa attività. Come vi dicevo prima, il censimento permanente della popolazione è avviato nel 2018, fino al 2011 ci ricorderemo senz'altro che il censimento della popolazione si svolgeva a cadenza annuale. Con questa iniziativa noi spieghiamo anche ai giovani come è cambiato il censimento e quali sono le sue caratteristiche. Quindi adesso è un censimento che ha una cadenza annuale e ha campione ed è in grado di dare una restituzione censuaria proprio grazie all'integrazione di dati provenienti da fonti amministrative e avendo sicuramente voi affrontato e utilizzato il materiale formativo, di questo noi parliamo in maniera ampia e diffusa nel modulo 1. Quali sono i canali informativi di questa iniziativa? Innanzitutto il sito dedicato che sicuramente conoscerete che è scuola.scensimentigiornodopogiorno.it all'interno del quale ci sono tutte le informazioni legate al progetto e fino allo scorso anno diciamo era lo strumento principale di tutta la diffusione dei contenuti dell'iniziativa. Da quest'anno i materiali formativi, l'iscrizione, tutta la documentazione è stata resa disponibile sul sito istat quindi sicuramente avrete avuto modo di conoscere la pagina principale del censimento permanente sui banchi di scuola e sicuramente l'avrete utilizzata per iscrivere la vostra classe per scaricare il materiale formativo. Mi raccomando i microfoni per favore se potete spengerli. E poi per avere tutte quelle che sono le informazioni costantemente aggiornate che noi inseriamo sul sito legate all'iniziativa tra cui appunto anche quelle legate al contest. Allora, brevemente i contenuti dell'iniziativa li avrete sicuramente rappresentati in classe ai vostri alunni. Quindi avete visto che il percorso formativo si compone di quattro moduli. Il primo modulo ha lo scopo di far conoscere il censimento ai ragazzi, quindi è un materiale introduttivo che spiega cosa sono i censimenti, come sono cambiati, divenendo appunto permanenti e ne traccia un po' l'evoluzione delle origini fino ai giorni nostri, focalizzando ovviamente l'attenzione sul nostro paese. Il modulo 2 spiega a che cosa servono i dati, cioè un materiale che parla della statistica come qualcosa che è molto vicina alla nostra realtà, alla vita degli individui e quindi illustra come queste quantità in fondo servono a descrivere il nostro territorio a comprenderlo in maniera più consapevole. E poi entriamo nella parte più pratica, perché i primi due moduli sono di tipo teorico. La parte pratica, che poi è differenziata anche per ordine scolastico, è suddivisa in due momenti importanti. Nel modulo 3 impariamo a leggere i dati e utilizzarli. È un modulo che fornisce i dati delle rilevazioni sensuarie e aiuta, diciamo, attraverso i tutorial grafici che sono messi a disposizione a entrare ed approcciarsi in maniera autonoma a tutte le banche dati che Istat mette in campo proprio per diffondere l'informazione statistica. Naturalmente sono selezionate delle banche dati dedicate a ragazzi della scuola secondaria di primo grado e a bambini della scuola primaria, proprio per aiutarli ad avere anche un'autonomia di approccio a queste banche dati. E poi il modulo 4 offre delle linee guida per partecipare al contest e sarà un po' il protagonista di questo nostro primo appuntamento, perché è un modulo pratico che fornisce gli strumenti per prepararsi alle censicare e per realizzare il progetto creativo. Dove si trovano questi moduli? Sicuramente siete riusciti a trovarli in autonomia attraverso le nostre comunicazioni sul sito dell'Istat, sono dei link scaricabili alla pagina che voi vedete segnalata in questa slide e se andiamo a parlare appunto della competizione statistica dobbiamo concentrare la nostra attenzione sul modulo 4. Prima di arrivare praticamente al modulo 4 che vi mostrerò tra poco. Vi do alcune indicazioni pratiche di questo contest che come vedete passa dalle censicare al progetto creativo. Allora, parliamo oggi solamente delle censicare, cioè della competizione statistica. Per quanto riguarda il concorso di idee rimandiamo al prossimo webinar del 2 marzo. Non vogliamo essere pesanti, vogliamo che questo appuntamento possa essere fluido e che possa chiarire quella che è l'attività imminente da svolgere nei prossimi giorni. Le censicare quest'anno, come avete potuto apprendere dalla comunicazione che vi abbiamo mandato, si svolgeranno il 28 di febbraio, chiedo scusa, coinvolgono tutte le classi iscritte all'iniziativa e ciascuna classe è rappresentata da un alunno che viene selezionato dall'insegnante stesso che noi chiamiamo l'ambassador, quello che rappresenta un pochettino tutto il gruppo classe. Durante questa competizione statistica questo ambassado potrà certamente essere anche aiutato dai propri colleghi. Apro una piccola parentesi per spiegare perché nasce la figura dell'ambassador, perché qualche insegnante ce l'ha chiesto, perché non coinvolgere tutta la classe. Diciamo non è una scelta di tipo restrittiva, tutt'altro nel momento in cui è nata la figura dell'ambassador noi ci trovavamo in piena pandemia. Abbiamo immaginato la difficoltà di tantissime famiglie che in quel momento si trovavano a gestire la didattica a distanza con i propri figli e quindi abbiamo immaginato che in ciascuna classe ci potesse essere almeno un bambino in grado di collegarsi, di avere un'attrezzatura casalinga per potersi collegare online e permettere alla propria classe di partecipare. Ecco, quindi questa nasce con questa razio, diciamo, la figura dell'ambassador, con l'idea proprio di mettere tutte le classi di tutte le scuole distribuite su tutto il territorio nazionale in grado di poter partecipare perché le apparecchiature tecniche, la rete non sono a disposizione forse di tutte le famiglie allo stesso modo e noi questo lo sappiamo benissimo e gli insegnanti probabilmente, tutti voi insegnanti ci potrete anche confortare in questa riflessione che abbiamo avuto. Quindi ecco, mi faceva piacere aprire questa parentesi per dirvi che l'ambassador non è il più bravo della classe, è colui che ha la possibilità di rappresentare la classe perché ha una strumentazione tecnica, perché ha anche il carattere magari meno emotivo ed è in grado di approcciarsi alla competizione statistica con meno paura rispetto ad altri ragazzi o ad altri bambini. Oggi per fortuna siamo fuori dal lockdown e questa attività si può svolgere in aula e di questo noi siamo contentissimi e quindi a maggior ragione ci può essere un alunno che rappresenta la classe supportato da tutti i compagni che lo circondano utilizzando la lavagna elettronica, il computer che comunque è uno in classe e può comunque portare avanti quindi in questo modo la competizione statistica. Ecco, quindi mi faceva piacere ecco riflettere insieme a voi ad altavoce rispetto a questa scelta. Allora questa prova comprende 30 domande e per cui noi invitiamo voi insegnanti a svolgerla preventivamente in classe a modo di esercitazione, quindi proprio attraverso una competizione che voi svolgete in aula si può così capire magari chi sarà l'ambassador che può rappresentare la classe, magari colui che è riuscito a rispondere più velocemente, che che non si è spaventato di fronte alle domande. Anche rispetto a queste domande io vi vorrei tranquillizzare perché tutto quello che è contenuto nel modulo 4 vi aiuterà a preparare la competizione statistica, quindi sia quando andrete a preparare la competizione statistica come simulazione della prova nazionale, come simulazione, quindi come attività che svolgerete in classe tra di voi, potrete prendere dalla batteria di test che è presente nel modulo 4 le domande che possono essere utili per la preparazione di questa competizione statistica, ma nella stessa competizione statistica voi andrete a ritrovare 30 delle domande che fanno parte della batteria di test che il modulo 4 vi raccoglie e vi propone. Anche la preparazione di queste censicare è una preparazione gestibile attraverso i materiali che noi mettiamo a disposizione. Lo scopo per noi non è mettere in difficoltà l'alunno di fronte a domande difficili, per noi lo scopo è far approcciare l'alunno a contenuti che sono forse difficili, ma distribuiti attraverso dei materiali accessibili e grazie al vostro supporto possono diventare piano piano più noti. Ecco, quindi anche la competizione statistica non ha l'obiettivo di mettere in difficoltà, ma anzi di farvi incontrare con la statistica nella maniera più accessibile possibile. Chiedo scusa al gioco di parole. Allora, al termine di questa gara ovviamente emergeranno quelle che sono le classi che hanno raggiunto i punteggi più alti e come vengono accumulati questi punteggi. Ci sarà ovviamente quindi una graduatoria, quindi per ogni risposta esatta sarà dato il punteggio di uno, per ogni risposta sbagliata o una non risposta il punteggio zero. Noi consigliamo sempre di rispondere perché comunque il punteggio, anche se si sbaglia, il punteggio resta zero, quindi non va a meno uno, meno due eccetera, quindi tra la non risposta e la risposta sbagliata noi invitiamo sempre i ragazzi a provarci, a dare la loro risposta. A parità di risposte esatte la graduatoria che terrà in considerazione quello che è il tempo impiegato dall'ambassador a rispondere al questionario. Questo punteggio andrà a costituire un bonus che la classe potrà sfruttare nel corso della valutazione del progetto creativo. Questo è molto utile per noi perché ci siamo trovati alcuni anni in difficoltà perché i progetti creativi magari raggiungevano lo stesso punteggio nella valutazione. Viene eletta una commissione che valuta con un punteggio da zero a dieci i progetti e quindi se alcuni progetti raggiungono lo stesso punteggio, il bonus acquisito da licenze care spesso ci ha aiutato a uscire dalla difficoltà poi di nominare un unico vincitore perché la somma del punteggio della valutazione con il bonus acquisito durante le licenze care ci ha dato la possibilità di nominare un vincitore unico. Anche in questo caso però vorrei tranquillizzare molti docenti che ci hanno chiesto, ci hanno espresso la difficoltà magari a partecipare alle licenze care. Diciamo la partecipazione al contest può essere accettata anche se una classe non è in grado, non ha il tempo, si trova in difficoltà e non può quindi accedere alle licenze care. Non avrà questo bonus però magari realizzerà un progetto creativo bellissimo e non avrà bisogno. Naturalmente questa è una battuta, sono importanti tutte e due le fasi del contest perché hanno un obiettivo preciso. Con le licenze care gli alunni imparano ad approcciarsi alle quantità, conoscono i canali per acquisire questa informazione quantitativa e attraverso questo primo step importantissimo di avvicinamento alla statistica e di prova rispetto ai contenuti, alle competenze acquisite durante la fruizione dei contenuti e del materiale formativo, riescono poi a realizzare un progetto creativo consapevole perché il progetto creativo racconterà il proprio territorio attraverso l'informazione e statistica e loro avranno imparato dove andare a trovare i dati e che significato hanno e licenze care è un momento importante di verifica di questa prima attività. Quindi sono due progetti che si completano tra di loro, sono due fasi che si completano tra di loro, però ecco noi diamo la possibilità a coloro che hanno difficoltà di partecipare a licenze care di accedere comunque alle attività del progetto creativo. Brevemente informazioni tecniche che ci provengono dal regolamento, l'iniziativa del censimento permanente sui banchi di scuola ha un suo regolamento molto dettagliato, molto articolato che spiega tutte le fasi di questa attività, comprese quelle legate al contest. L'articolo 5 spiega che il contest, che la competizione statistica prevede 30 domande e risposta multipla, 15 di carattere generale sui censimenti, 5 sull'importanza della statistica e 10 sui dati censuari. Tra parentesi vedete modulo 1, modulo 2 e modulo 3. Che cosa vuol dire questo? Che ogni argomento delle domande previsto nell'ambito della competizione statistica ha una sua spiegazione nell'ambito dei moduli che noi mettiamo a disposizione. Quindi questa attività, questa iniziativa è costruita proprio con l'obiettivo di non mettere in difficoltà voi insegnanti a dover ricercare contenuti, perché i contenuti vi vengono dati nel materiale formativo, poi voi li prenderete, li trasmetterete ai vostri alunni nel modo e nella maniera che riterrete più opportuni, perché solo voi conoscete il vostro gruppo classe e gli alunni che vi trovate di fronte. Quindi l'obiettivo proprio è quello di agevolarvi il più possibile. La competizione si svolgerà in orario scolastico, noi diamo un'ampia fascia oraria tra le 9 e le 16 perché immaginiamo che nell'ambito dell'intera giornata riuscirete con maggiore facilità a individuare un'ora in cui potervi collegare e svolgere la competizione statistica con la vostra classe. Quindi ogni classe riceverà un link personalizzato per completare il compito e le mail con i link e i dati di accesso sono già partite questa mattina, quindi ve le troverete nella vostra casella di posta. Il test durerà 45 minuti all'incirca, poi potrete impiegarci anche un'ora e mezza, non è questo il problema. In termini di tempo lo esauriamo così, quindi è un test accessibilissimo che prevede un certo impegno ma che insomma nell'arco di 45 minuti può essere concluso. Una volta che terminerete questa attività potrete uscire dal link e chiudere il test. Se per qualsiasi caso la rete ha una caduta, attenzione al microfono aperto che se no ci sentiamo entrotti, vedete i microfoni, se avete problemi di rete, si interrompe la connessione, uscite fuori dal test, non vi preoccupate potrete rientrare. Poi per qualsiasi necessità noi saremo collegati con voi tutto il giorno e quindi potrete scriverci mail, metteremo a disposizione anche i nostri numeri telefonici per poterci raggiungere e avere delle risposte immediate, un supporto immediato da parte nostra. I contenuti delle Cinzicare sono differenziati per ordine scolastico e io prima di concludere il mio intervento vorrei farvi vedere quelli che sono i contenuti delle Cinzicare e a questo proposito vediamo se riesco con facilità ad aprire ecco il modulo 4. Allora, come vi ho spiegato il contest è illustrato in maniera dettagliata nel modulo 4, quindi il modulo 4 si intitola proprio linee guida per la preparazione alle Cinzicare e per la realizzazione di un prodotto di comunicazione che racconti il territorio attraverso i dati statistici. Oggi ci concentreremo appunto sulla parte dedicata alle Cinzicare. Come potete vedere questa è la batteria di test che voi insegnanti potrete utilizzare per tirar fuori la vostra competizione in preparazione delle Cinzicare vere e proprie che è una competizione nazionale in cui tutte le classi iscritte in Italia partecipano contemporaneamente e avendo cura di selezionare 15 domande dal primo blocco di domande che fanno parte i cui argomenti sono riconducibili al modulo 1 e cinque domande da parte del modulo 2, vedete, queste sono tutte le domande che noi mettiamo a disposizione e sono tante se ci pensate, no? E poi dieci domande dal blocco del modulo 3, quindi cinque domande nella parte dedicata ai dati nazionali e cinque domande nella parte dedicata ai dati regionali. Eccoli qui. Allo stesso modo durante la competizione statistica, come vi ho spiegato, noi selezioneremo quindici domande dal primo blocco, quindi inerente il modulo 1, cinque domande nell'ambito del secondo blocco che riguarda i contenuti del modulo 2 e dieci domande dal modulo 3, quindi cinque domande che riguardano i dati nazionali, i dati censuari e nazionali e cinque domande che riguardano i dati regionali. Quindi questa è, diciamo, la competizione statistica. Io non mi dilungo ulteriormente, vi ringrazio dell'attenzione in maniera ufficiale, con questa slide, ecco non si è vista la slide finale, va bene, e lascio la parola al mio collega Franco Mortati, così che possa aiutarvi a capire come entrare invece in piattaforma, come registrarsi e come svolgere la competizione statistica nella maniera più agevole possibile. Grazie dell'attenzione e Franco ti lascio la parola. Grazie mille, vi chiedo di nuovo se è possibile di oscurare la vostra webcam e di oscurare i vostri microfoni, perché poi stiamo registrando per mettere online il nostro intervento, quindi vi chiedo nuovamente, grazie mille. Scusate, poi alla fine ovviamente nello spazio domande finali, adesso Gianna ha una domanda, adesso rispondo in diretta e avrebbe spazio per fare queste domande, quindi a quel punto se vi va, insomma, quando farete la domanda di stare di nuovo in video, ovviamente col microfono, senza microfono è un po' difficile farlo, insomma. Allora, dicevamo, siccome diceva la mia collega Francesca, io vorrei fare la parte un po' più pratica, diciamo, lei ha fatto un quadro più, come siamo, complessivo, teorico della competizione, andiamo sul pratico, diciamo, quindi non ho preparato slide in particolare, però voglio farvi vedere intanto, prima di entrare in piattaforma, condivido un attimo, eccolo qui, un esempio di formazione di userid. Allora, per fare questa userid siamo partiti dai codici meccanografici delle vostre scuole. Funziona in questo modo, per esempio la scuola X, adesso questa è una scuola romana e una scuola superiore, in realtà ho preso un esempio teorico, diciamo, se di questa scuola partecipano la terza A, la terza B e la seconda D, ad esempio, il codice classe è composto in questo modo, il codice meccanografico più la classe, i numeri arabi, più la sezione, quindi in questo caso diventa, se RMPS 06005 è il codice meccanografico, il codice classe della terza A diventerà lo stesso codice più 3 A alla fine, insomma. L'abbiamo fatto in questo modo. Scusate. Cosa importante, tutto quanto, questi codici devono essere in minuscolo, perché il sistema Moodle, il sistema che utilizziamo per effettuare le censicale, è un sistema che non riconosce userid con maiuscole, quindi tutto quanto deve essere digitato in minuscolo, questo è molto importante. Cosa succede? Un caso un po' più complesso, c'è una domanda appunto su questo, nella chat, ai docenti, ce ne sono abbastanza, che hanno registrato più classi a proprio nome. Questi docenti oggi, proprio oggi, hanno ricevuto le userid, sembrano uguali tra di loro, ma in realtà non lo sono, poiché hanno le prime, sono dieci cifre che sono effettivamente identiche per tutte le classi, ma le ultime due sono diverse per ogni classe, proprio perché riportano il numero della classe, cioè il numero, il cifre arabe, se prima, se terza, quarta e quinta per le primarie, prima, seconda e terza per le secondarie di primo grado, e la sezione, tutto quanto anche questo in minuscolo. Quindi questi docenti che hanno più classi, oggi hanno ricevuto più mail, ma con codici differenziati, che sembrano sì, forse di primo acchito sembrano uguali tra di loro, ma in realtà sono diversi nelle ultime due cifre. Quindi il docente che ha più classi, cosa dovrà fare il giorno dei licenzi gare? Sarà un po' lungo, la sua giornata sarà un po' lunga se ha molte classi. Dovrà, con la prima classe, entrare dentro il sistema, può farla anche contemporaneamente se vuole, però forse è meglio farla in sequenza per non confondere i ragazzi, gli ambassador. Con la prima classe, con il primo ambassador, entra con la prima utenza, che in questo caso potrebbe essere la terza A, entra con la terza A, fa l'effetto della licenzi gare con loro, poi chiude l'utenza, entra con l'altra classe, scrive l'altra utenza, quindi terza B in questo caso, entra con la terza B, effettua le sue licenzi gare con la nuova classe, con l'ambassador, e poi esce fuori. Entra dentro un'altra volta, sempre nel sistema, e con la terza classe effettua la licenzi gare con la terza utenza. Adesso allveniamo, chiudo questa condivisione, e veniamo invece alla piattaforma vera e propria. Adesso solo per farvi un esempio, eccolo qui, eccola. Questa è la piattaforma su cui entrerete, il link che l'avete avuto nella mail che avete ricevuto oggi, comunque senza www, direttamente olimpiadistatistica.istat.it, senza www iniziale. Quindi ripeto, olimpiadistatistica.istat.it, un nome un po' strano, perché in realtà è quello di un'altra iniziativa, praticamente, che fa parte di, che anche lei si svolge su questa piattaforma. Per entrare, quindi avete questa la pagina che vedrete, alcuna forse ci è già entrata, magari, che vedrete quando entrate. Vedete effettuare il login, il login appunto, adesso prendete la mia utenza, qui a sinistra scriverete, quindi, come username quello della classe. Come password, inizialmente per tutti quanti è impostata la password change me in inglese, c-h-a-n-g-n-e-m-e in inglese, c'è in tutto attaccato. Dovrete, tassativamente, al primo accesso, cambiare tale password, impostando una personale, e ricordarvela, possibilmente, insomma. Esiste una, come vedete qua, hai dimenticato la humor, esiste il recupero password, però, diciamo, se ve ne ricordate, ovviamente è meglio. Quel giorno delle censicali, come diceva Francesca, la collega, noi saremo a vostra disposizione, anche con i nostri cellulari, quindi, comunque, potrete contattarci, se avete dimenticato qualcosa, se è necessario un reset password, e così via, insomma. Però, diciamo, se ve ne ricordate, è meglio. Comunque, tramite questa procedura, potete recuperarla. Anche qui, chi ha più classi, è un po' più complesso, perché deve entrare, tante volte, sul sistema, quante sono le password, e quale sono le username, le classi, e quindi le username che ha. Se vuole, per esempio, per semplicità vostra, ma non è dovuto poter anche non farla, questa cosa, non è necessario, ma se volete, potrete anche impostare la stessa password nuova, per tutte le utenze, così non avete problemi di memoria, di memorizzazione, e avete sempre la stessa per tutte, non è un problema, insomma, non interessa la password, dare quella che volete. Se invece volete diversificare per classe, volete anche farlo, insomma. Questo sta a voi decidere come fare in questo caso, insomma. Però dovrei entrare, purtroppo, tante volte, quante sono le vostre classi, nelle vostre username. Io adesso entrerò con la mia utenza, invece, quindi vedrò delle cose, forse, in più rispetto a quelle che vedete voi. Eccola qui, entro dentro. Quando andate dentro il sistema, dovete andare a vai alle iniziative, adesso siete dentro, io sono entrato con la mia utenza, si va a vai alle iniziative, questo pulsante rosso in mezzo, e compare il censimento permanente sui banchi di scuola. Vi dovrebbero comparire la pagina di quest'anno, questa qui, e la pagina dell'anno scorso, il 21. Sono riferiti all'inizio dell'anno scolastico, all'anno solare con cui comincia l'anno scolastico, quindi l'anno scorso, diciamo, in questo caso. Quindi quelli di quest'anno sono al 2022, 2021, sono quelli dell'anno scorso. Vediamo velocemente quella del 2022, quella nuova. Non c'è ancora nulla, perché non abbiamo ancora impostato le censi gare. Comunque, ecco, sta cominciando a impostare il nostro collega, e le troverete qui, praticamente. Quindi le censi gare saranno qui. Ovviamente, chi ha le classi, chi è insegnante, chi è in classe di scuola primaria, accederà al test delle scuole primarie, chi ha classi di secondaria di primo grado, accederà a quel test. In questo... Dopo aver... Adesso vedremo quelli dell'anno scorso, per vedere come funzionano. Però, una volta che avrete finito le censi gare stesse, tramite questo pulsante qui, potrete scaricare... Scarica, attestato, partecipazione alle censi gare. Potrete scaricare l'attestato di partecipazione, appunto, alle censi gare, che potete usare per le vostre attività, anche scolastiche, che può essere utile per eventuali crediti formativi, e così quanto e così quanto altro. La stessa cosa succederà, ma ne parleremo la prossima volta, per il progetto creativo, anche lì ci sarà... Potete scaricare un attestato di partecipazione, che può essere, appunto, utile, insomma. E quindi qua vedrete, in questo modo potrete... Adesso in questo modo non è accessibile, non ci sono ancora, non lo abbiamo ancora... Comunque non potremmo farlo in ogni caso, però non lo abbiamo ancora impostato, se lo stiamo inserendo in questo momento. E vediamo poi l'anno scorso, per capire come funzionava l'anno scorso, e fare un esempio di... Come potete anche esercitarvi con questi ragazzi, se lo volete fare, ovviamente. Andiamo a 2021. In questa fase, nel 2021, che abbiamo avuto tanti a vostra disposizione, potrete andare qui, in questo punto in particolare, qua giù, a autovalutazione censigare, scuola primaria o scuola secondaria di primo grado. Io in particolare entro nella seconda, nella secondaria di primo grado, perché in realtà la primaria, poi vi spiego, l'ha già accennato Francesca, è molto simile, insomma. Quindi potete fare questa autovalutazione, che significa che voi entrate nel sistema e vedete come era fatto il test dell'anno scorso. Quello di quest'anno, scusate, sarà molto simile a quello dell'anno scorso, nel senso come frame, diciamo, come svolgimento. Quindi in questo modo, è un buon modo per esercitarsi e vedere come funziona quello di quest'anno. Entriamo dentro. Scusate, prima di andare avanti, alla docente di prima, e comunque adesso, renderò alla fine una mail, con tutti i codici della sua scuola, e per vedere la diversificazione dei suoi codici. Quindi poi alla fine di tutto questo, le miro questa mail con tutti i vostri codici, con tutti i codici della sua scuola, che comunque può controllare le stesse, sono comunque diversificati, anche se sembrano molto simili. Quindi questo è quello che vi compare, sarà andata quello dell'anno scorso. Vediamo qui. Poi dovete cliccare su Anteprima e Mediata Quiz e vi compare proprio il test dell'anno scorso. Quello di quest'anno sarà ovviamente in parte diverso, insomma, per alcune domande potrebbero anche essere le stesse. Vediamo come si risponde. La differenza tra scuole secondarie di primo grado e scuole primarie è soltanto questa. Le domande sono le stesse in realtà, soltanto che nella scuola secondaria di primo grado ci sono quattro possibili item di risposta, di cui uno solo corretto ogni volta. Nella scuola primaria invece ci sono tre item di risposta, quindi uno in meno, per semplificare, per noi ragazzi più piccoli. Semplifichiamo e quindi sono solo tre invece di quattro item di risposta. Uno solo è corretto, come diceva Francesca, la risposta corretta ottiene un punto, la risposta sbagliata zero punti, la risposta non data zero punti di nuovo. Quindi comunque non ci sono penalità, quindi a quel punto vi conviene comunque, in ogni caso, tentare e cercare di rispondere. Adesso io risponderò casualmente, senza leggere, perderemo troppo tempo, alle varie domande, solo per capire poi come funziona il tutto nella scienzi canale, nella scienzi canale vera e propria. Insomma, adesso andrò avanti a rispondere, così casualmente non leggo nemmeno una domanda, quindi saranno alcune sbagliate, alcune giuste, insomma. Quindi tutto questo, no, sono 30 domande, come diceva Francesca. Andrò avanti a rispondere, conviene farlo non troppo velocemente, ma non troppo lentamente, perché conta anche il tempo. Io continuo a rispondere in maniera casuale. Queste sono tutte le varie domande. Questa è finita. 29 e 30. Ovviamente non possiamo sbagliare, perché ho risposto in maniera totalmente casuale. Una volta che avete finito di rispondere, non è finita qui, anche questo perciò volevo farvelo vedere che è importante, dovrei andare alla fine di questa batteria di risposte e fare, alla fine, questo è molto importante, invia e termina. Questo anche nella scienzi canale vera, non solo nelle simulazioni dell'anno scorso, invia e termina. Lui chiederà un'altra volta, stai per inviare e terminare il tentativo. Una volta inviato le risposte date non potranno più essere modificate. Invia e termina. Se qua avete dubbi, insomma, potrete nulla, ma se no, altrimenti andate, invia e termina. E a questo punto potete vedere, come questi ragazzi, la simulazione fatta l'anno scorso, vedere le risposte sbagliate e quelle corrette. La maggior parte sono sbagliate, perché avendo risposte in maniera casuale moltissime sono sbagliate. E queste sono, potete vedere, scorrere, quindi tutte le domande che avete risposte, vedere quelle giuste e quelle sbagliate, e capire dove avete sbagliato e perché. E quindi andare di nuovo, ad esempio, se volete, sui moduli, a ritrovare la parte che non avete forse visto bene con i ragazzi, o nel modulo 4, comunque andare a verificare tutte le varie risposte corrette e sbagliate che ci sono, insomma. E questo potete vedere tutto quanto, quindi fino alla fine, fino all'ultimo, ovviamente. E tutto, sono molto veloce, insomma, quindi questo è quanto, insomma, non mi sembra ci siano altre cose a dire, poi semplicemente dovete uscire, e se volete, appunto, come dicevo prima, è solo questo, rivediamo un attimo. Un'unica cosa, rivediamo un attimo solo questo, in quella di quest'anno, ricordatevi appunto di scaricare l'attestato di partecipazione. Questo perché, in realtà, è possibile farlo anche in un secondo momento, collegandosi nuovamente alla piattaforma, ad esempio, quando caricherete il progetto creativo, però, prima o poi, le vostre username verranno comunque annullate per poter far spazio alle news dell'anno prossimo, quindi non sarà possibile per sempre scaricarlo, quindi prima lo scaricate il vostro attestato e meglio è, insomma, perché comunque ce l'avete, potete utilizzarlo subito e poi c'è il rischio, appunto, che se si attende a troppo tempo, poi le utenze verranno, ovviamente, anche per le classi non ci sono più, non ha più senso, insomma, vengono chiuse, insomma. Quindi comunque vi conviene, il mio consiglio, è di scaricarlo subito, contestualmente, una volta è finita la censigara, subito scaricate l'attestato, senza aspettare, insomma, in modo che ce l'avete già pronto e potete utilizzarlo per voi, insomma. Basta così, vi do la parola a Francesca, e poi ci sono domande, ovviamente. Ringrazio molto, Franco, sì, approfitto per dare una risposta, proprio adesso a una domanda importante che un insegnante ci ha sottoposto, ovvero, Franco, se puoi togliere la condivisione del documento, per favore, è possibile utilizzare il, chiedo scusa, allora, è possibile utilizzare il test attualmente presente in piattaforma per rispondere, per esercitarvi e selezionare un ambassador, ma è possibile utilizzare le domande che sono presenti all'interno del modulo 4 da voi opportunamente selezionate per selezionare il vostro ambassador, dunque avete più strade per esercitarvi in classe. Non so se ci sono altre domande. L'attestato è scaricabile al termine della competizione e all'interno dell'attestato verrà generata la vostra classe con la precisazione dell'istituto e della città, quindi tutti i dati, l'attestato contiene tutti i dati, allo stesso modo voi potrete scaricare il vostro attestato nel momento in cui andrete a consegnare il progetto creativo, quindi ci saranno ben due attestati da scaricare al termine della vostra attività, il contest è diviso in due parti, censicare e progetto creativo. L'ambassador può lavorare insieme alla classe, materialmente sarà lui, ci può essere un bambino, un ragazzo di fronte al computer che risponde, ma i colleghi potranno aiutarli, i suoi compagni di classe. Non vogliamo il nome dell'ambassador, l'essenziale è che lo conosciate voi, non deve essere dichiarato, non è importante, far fede è la classe, cioè noi avremo al termine della competizione la dicitura della classe e la graduatoria sarà sulla classe. Gli unici nomi che noi conosciamo della classe sono quelli dell'insegnante referente, quindi noi abbiamo un insegnante referente che si è preoccupato di registrare la classe in piattaforma e se qualche nome andrà a comparire sarà solamente il vostro. Una domanda, per le dieci domande relative al modulo tre ci saranno delle tabelle da consultare. Allora, se provate ad esercitarvi in classe e a utilizzare la batteria di test vedrete che ci sono delle domande rispetto a delle quantità, non so, nella regione Emilia-Romagna qual è la percentuale di donne di età compresa tra i 40 e i 50 anni e magari ci saranno tre risposte, una giusta, una verosimile, una sbagliata completamente, questo per la scuola primaria. La scuola secondaria di primo grado avrà in aggiunta la domanda equivoca, quella che mette un po' in difficoltà, dubbia, quella che potrebbe essere quella corretta ma non lo è. Diciamo le scienzi care sono costruite così, le risposte sono costruite in questo modo. I bambini in scuola primaria non hanno questa quarta domanda che li mette in difficoltà perché sono più piccoli. Immaginiamo invece che i ragazzi di scuola secondaria di primo grado possano essere anche un pochettino messi alla prova con questa domanda un po' che disturba. Allora, dunque, non ho capito una volta entrata dove posso accedere alle scienzi care. Allora, quando si entra in piattaforma nel momento, nel periodo di tempo in cui le scienzi care si possono svolgere viene resa visibile la sezione delle scienzi care. Quindi adesso, per esempio, quando voi entrerete in piattaforma il 28 di febbraio potrete vedere il link per accedere le scienzi care. Non prima perché non potete conoscere il test prima della competizione statistica. quindi in sostanza la pagina della piattaforma è costruita in maniera molto semplice. C'è un'area dedicata alle scienzi care e un'area dedicata al progetto creativo. Quando le scienzi care sono in attività voi potrete vedere il link e accedervi. Quando il progetto creativo potrà essere caricato ovvero dal 6 marzo questo vi do un'anticipazione al 31 marzo quindi questo è l'arco di tempo voi vedrete il link per accedere al caricamento del progetto creativo. Allora qualche insegnante ci scrive Francesca scusami c'è rimasta una domanda precedente a quella che ho già risposto soltanto questo diceva le credenziali ricevute possono essere utilizzate sia per accedere all'allenamento che per la gara finale sì cioè voi usate le credenziali sia per l'allenamento in questo momento sia per la gara finale quindi quando fate le scienzi care usate sempre le stesse anzi tenetele perché userete quelle anche per entrare in un momento quando metterete il progetto creativo quindi perciò dicevo prima quando mettete la passo ricordatevela perché entrerete nella piattaforma varie volte una piccola anche cosa in più rispetto a prima chi ha più classi ovviamente potrà scaricare più attestati cioè per ciascuna classe entrando nelle diverse utenti delle classi scarierà gli attestati di ciascuna classe che riporteranno come diceva Francesca i dati della scuola e delle singole classi che hanno partecipato allora ci sono due domande una un insegnante ci chiede se può trattenere i ragazzi oltre l'ora scolastico ma certo questo dipende da voi nel senso secondo me è auspicabile al termine delle lezioni se i ragazzi possono fermarsi un'ora potete svolgere le scienze gare nell'ambito di quest'ora in più di scuola questa è vostra discrezione diciamo se chiederete agli alunni di fare questo dovrete immagino produrre delle autorizzazioni delle richesse ai genitori ed è una cosa che vi organizzate tra di voi noi immaginiamo l'orario scolassio perché è il tempo più semplice per raccogliere i ragazzi a svolgere un'attività che le accumula allora un docente ci chiede una docente ci chiede se le domande riferite al modulo 3 rispetto alle domande riferite al modulo 3 possono consultare le tabelle non ve lo dobbiamo dire noi fate vobbis nel senso che se avete dei dubbi e avete la sveltezza di entrare in qualche banca dati per capire bene qual è il dato sì è ovvio che potete farlo diciamo che la competizione l'organizzazione della competizione la svolgete voi per noi l'importante è la restituzione della risposta quindi è l'informazione che ci date rispetto alla preparazione delle scienzi cari poi scusami Francesca scusami vorrei aggiungere su questo potete farlo però poi conta anche il tempo per cui se vi riuscite a preparare prima è meglio è sapere già rispondere perché altrimenti se cominciate a consultare il database e andare sul data browser lì per lì diventa perdere un sacco di tempo quindi il vostro tempo complessivo diventa molto lungo e quindi retrocedete nella gradatoria semplicemente questo vi converrebbe quindi se fosse possibile prepararsi un pochino prima però vi ricordo che i contenuti delle scienzi cari sono all'interno del modulo 4 quindi diciamo non dovete neanche cercare tanto lontano le risposte perché voi già le avete bisogna solo capire quali delle domande all'interno della batteria di test che è abbastanza ricca verranno selezionate per la competizione nazionale allora il modulo 3 per la scuola primaria però effettivamente avrebbe bisogno di avere un grafico per rispondere alle domande ci sono richieste per noi adulti più accessibili in base al nostro vissuto e conoscenze che i bimbi di 8 anni ancora non hanno certo questo noi ci rendiamo conto però all'interno dei moduli diciamo ci sono dei contenuti che voi insegnanti riportate in classe in base alla classe in cui vi trovate al vissuto dei ragazzi diciamo che le domande che noi selezioniamo ogni anno per le scienze gare cercano di rappresentare il più possibile il vissuto dei ragazzi gli stessi contenuti che noi mettiamo all'interno dei moduli cercano di rappresentare il vissuto dei ragazzi anche perché dobbiamo fare dobbiamo in qualche modo accattivare l'attenzione di questi ragazzi con argomenti che sono più vicini non so il tema dell'istruzione che è rappresentato nel modulo 2 oppure il tema della mobilità cioè come vado a scuola in bicicletta in macchina in autobus oppure contenuti che riguardano la quantità della popolazione quanti siamo come ci chiamiamo certo noi abbiamo selezionato il più possibile argomenti che possano essere alla portata dei bambini però è anche vero che i bambini possono conoscere anche informazioni un po' più lontane ovviamente veicolate nel modo opportuno che voi conoscete senz'altro benissimo se si hanno dubbi su alcune domande si può andare avanti allora no vi consigliamo di prendere il vostro tempo e rispondere a ciascuna domanda in maniera da rispettare la sequenza quindi questo è il consiglio che noi vi diamo prego avevo visto un vostro prodotto che si chiamava lezioni ma non sono più riuscita a trovare mi potete aiutare sì allora il primo anno abbiamo registrato tre webinar anziché proporli live come in questo caso questi webinar sono ancora disponibili nella sezione nella pagina Istat del social YouTube se voi andate su YouTube e digitate Istat vi si apre una pagina con tutti i contenuti multimediali che l'istituto produce scorrendo questa pagina principale c'è un canale dedicato unicamente al censimento permanente della popolazione all'interno del quale troverete tutti i video che sono stati tantissimi video che sono stati prodotti in questi quattro anni e nella parte un po' più in fondo perché riguardano il primo anno ma sono stati riprodotti anche per la seconda edizione voi troverete i video dedicati a queste prime tre lezioni che hanno lo scopo di spiegarvi come si svolge come si svolgono le attività legate al contest una precisazione il primo anno noi non svolgevamo e questi sono video dedicati alla prima edizione non svolgevamo le censicare ma le attività erano collegate tutte al progetto creativo che era molto più ricco c'era la possibilità anche di produrre video multimediari per le scuole secondarie di primo grado la seconda edizione in poi visto che ci siamo trovati travolti dalla pandemia abbiamo rimodulato le attività del contest sottraendo delle caratteristiche alla realizzazione del progetto creativo e quindi semplificandolo eliminando quindi tutto l'aspetto burocratico delle liberatorie perché immaginavamo voi docenti in difficoltà già a gestire la didattica a distanza immaginiamo a produrre troppa documentazione e quindi avendo semplificato le attività collegate al progetto creativo abbiamo introdotto la competizione statistica quindi se andate a vedere quelle prime tre lezioni non si parla delle censicare allora grazie per la che Francia scusami è rimasto orando in evasa precedente per non perdercela diceva un tempo un altro docente entriamo in piattaforma con il nostro nome con quello dell'ambassador l'ho capito bene in realtà con nessuno dei due voi entrate in piattaforma con la username riferita alla classe qui non c'è né il nome vostro né il nome dell'ambassador ma la username che utilizzate è quella che avete ricevuto oggi per email quindi riferita alla singola classe chi ha più classi entrerà più volte con le varie username quindi comunque entrate non con l'ambassador come c'è una risca non compare mai il nome dell'ambassador non compare in nessun modo volete anche cambiare per esempio se il ragazzo o la ragazza che avete scelto il bambino o la bambina il giorno prescelto il giorno non può perché sta male perché ha un problema quel giorno 28 febbraio non è in classe in qualche motivo può essere qualcun altro a posto suo quindi non ce lo comunicate mai e entrate sentimente con la username della classe insomma ecco quella della singola classe ci sono anche richieste un po' particolari nella chat sto vedendo magari che qualcuna scriveteci per email e rispondiamo anche singolarmente sul vostro singolo caso io no ma franco invece mi sto assegnando per evitare che loro scrivano anche mail mi sto assegnando i nomi di chi sta presentando dei problemi e allora ci sono alcuni docenti che hanno iscritto diverse classi ma le credenziali di accesso sono identiche cioè le ultime due cifre non cambiano franco quindi probabilmente ci deve essere stato qualche errore oggi nell'invio io mi sono segnata per il momento quattro nomi che adesso non ripeto perché siamo in diretta per una questione di privacy se però volete essere più sicuri magari scriveteci una mail accensimento.scuola chiacciolaistat.it per dirci quali sono i vostri problemi perché se voi avete scritto sei classi quattro classi tre classi le credenziali sono diverse ad ogni classe corrisponde un ingresso in piattaforma un certificato quindi non è cumulativo diciamo che le attività legate al contest si connotano per classi non per docenti l'unico nome che noi riceviamo e possediamo è quello dell'insegnante è ovvio non conosciamo i nomi degli alunni non li chiediamo per una questione di privacy quindi anche le autorizzazioni le avete raccolte voi e conservate voi poi se ci saranno problemi noi ve li verremo a chiedere ma fino a questo momento problemi non ne abbiamo avuti però ogni classe deve ricevere il suo riscontro quindi terza C della scuola di Roma bla 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 avrà il suo attestato che non sarà lo stesso della terza B della stessa scuola quindi qualcuno ci sta dicendo solo una mail per sette classi allora è evidente che questo io ho segnato dei nomi ma è evidente che se è un problema diffuso Franco oggi ci devono essere stati dei problemi tecnici nella trasmissione perché ho contato poco fa contato nel file che ho io il file sorgente diciamo con i codici i codici sono tutti diversificati tutti diversi per i vari casi evidentemente può essere successo nel riversamento di questo database all'interno della 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 piattaforma e nell'invio oggi delle mail qualche intoppo per cui perciò dicevo appunto il singolo caso magari ce lo posso segnalare per email e possiamo poi con i nostri informatici andare a verificare cosa sia successo insomma perché comunque il file sorgente che ho creato io personalmente è corretto e tutte le classi delle scuole che sono che affiliscono lo stesso docente hanno comunque i codici diversificati poi non so potrebbe essere qualche problema infatti ti volevo dire che è proprio Franco che mi produce uno a uno questi codici quindi è sicuro quello lo fa Excel non lo faccio non lo faccio uno a uno fortunatamente perché c'è una bella funzionalità che si chiama con catena che fa tutto lui però è lui che si produce si, lo faccio io con Excel però non lo faccio mai scusa ti interrompo un attimo perché volevo rispondere ad un insegnante che dice quando entrate in piattaforma e trovate il vostro nome è giusto diciamo l'area della vostra classe è connotata anche dal vostro nome perché noi attraverso il vostro nome siamo in grado anche di recuperare tutte informazioni che voi della classe ci chiedete per esempio qualche volta qualcuno non è riuscito a scaricare l'attestato noi entriamo in piattaforma attraverso il nostro nome se ci indicate la classe qualora avete scritto più classi noi siamo in grado di recuperarvi le informazioni che ci chiedete tutti quanti stanno scrivendo anche io ancora non ho ricevuto le credenziali qualcuno addirittura io ho iscritto due classi ma ho ricevuto una sola mail per una sola classe sì l'indirizzo è censimento.scuola chiocciolaistat.it siamo noi le persone che vi rispondono normalmente siamo noi di fatto la segreteria organizzativa è Franca l'immagine che vedete di Franco adesso la potrete associare alla mail di risposta della segreteria organizzativa alle volte entro io a gamba tesa nelle richieste degli insegnanti e troverete il mio nome Francesca Vannucchi direttamente come risposta alle vostre mail sì per cui segnalateci i singoli casi problematici che sono fuori e noi verifichiamo con i nostri colleghi informatici se c'è su qualche problema nel riversamento potrebbe essere non lo so perché l'anno scorso mi sembra questo problema non c'è stato perché ogni anno ci sono moltissimi insegnanti che hanno più classi e quindi succede questa cosa che ogni insegnante dovrebbe ricevere in teoria più mail con più user diversificate che ho creato però quello lo verifichiamo caso singolo per caso singolo insomma in questo momento non è possibile verificare tutto ovviamente allora un insegnante che non può partecipare al prossimo webinar ci chiede se potrà partecipare in maniera sincrona sì anche il prossimo webinar sarà registrato e caricato su quella famosa pagina di cui vi parlavo social di YouTube dedicata proprio all'istituto c'è un canale unicamente dedicato al censimento permanente sui banchi di scuola lì saranno caricati due webinar che potrete seguire anche successivamente questo webinar cercheremo di caricarlo il più presto possibile online perché le censicare si svolgeranno tra pochi giorni il 28 febbraio il prossimo webinar è stato di proposito programmato per il 2 marzo in modo che abbiate tutto il tempo per poter realizzare il vostro progetto creativo e sottoporci tutte le domande necessarie per compierlo in una maniera più veloce e corretta possibile aspetta Franco qualcuno ci sta salutando io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo momento e che hanno partecipato quindi buonasera a tutti quelli che stanno uscendo adesso dalla chat e dal webinar un po' un secondo visto che ci ha chiesto qualcuno entrerei a far vedere un'altra condivisione proprio un attimo a far vedere di nuovo come si entra e dove sono le censicare solo quello perché ci hanno chiesto poco fa e magari proprio un secondo fare questa condivisione e poi basta io per me eccolo qui dicevamo adesso se torniamo indietro possibilmente riesci a ingrandire un pochino la pagina sì sì certo allora ecco così va bene è abbastanza grande quindi questa è la pagina che voi trovate quando entrate una volta fatta il login ho trovato questa pagina andate a vali iniziative e andate sulle iniziative accensimento permanente sui banchi di scuola la seconda quando entrate dentro qui è quella di quest'anno dove troverete le censicali di quest'anno andando giù quindi saranno in questa parte qua ora non sono ovviamente ancora consultabili e qui c'è anche il link per scaricarsi l'attestato scarica l'attestato di partecipazione alle censicali questo è per quest'anno quindi ancora non sono state caricate insomma per esercitarsi torniamo a vedere un'altra volta la iniziative accensimento permanente 21 qui giù trovate invece dove andare in particolare a autovalutazione prima abbiamo visto secondarie per esempio primarie scuola primaria anteprima immediata quiz è un po' lento insomma ecco non lo rifaccio un'altra volta è troppo lungo insomma e qui come vedete per le scuole primarie sono solo tre item di risposta più semplificata insomma e così via potete rispondere alle varie cose poi alla fine dovete fare invia con il tasto rosso invia tutto sei sicuro? sì invio tutto e a quel punto potete fare la verifica delle risposte corrette sbagliate che avete dato basta allora penso che possiamo interrompere questo webinar molti di vostri colleghi ci hanno salutato siamo contenti qualcuno ci ha espresso un riscontro rispetto alla chiarezza quindi siamo contenti se vi abbiamo chiarito le idee sullo svolgimento delle scienzi gare ecco se qualcuno vuole alzare la manina e dirci qualcosa a voce noi siamo disponibilissimi altrimenti ci salutiamo è stato bellissimo speriamo di rivederci il 2 marzo e poi chi potesse vedere qualche parte che Mario non ha visto bene lo metteremo su YouTube quindi potrà anche rivedere una piccola parte del webinar qualcuno di voi che l'ha già visto oggi oppure mostrarlo per esempio ai propri colleghi manderemo a me tutti quanti con link a YouTube con la registrazione ovviamente quindi se volete potrete anche tornarci dentro insomma noi aspettiamo che usciate tutti perché non abbandoniamo il canale perché dobbiamo poi recuperare la registrazione altrimenti non siamo in grado di metterla online quindi vi salutiamo ad uno ad uno via via che abbandonate la stanza e vi ringraziamo ancora della vostra partecipazione che è stata numerosissima abbiamo avuto punte di 82-85 insegnanti collegati grazie davvero buona serata a tutti e vi ricordate buona statistica a tutti in bocca al lupo ci saranno anche dei numeri di telefono vi ricordo e quindi potrete anche il giorno delle scienze care contattarci telefonicamente buonasera buonasera grazie a tutti